buongiorno buongiorno ragazzi oggi ci troviamo la terza tappa della transvaraita gare a tappe di enduro nella provincia di cuneo valle varaita siamo all'incirca 1500 metri di quota in questo momento oggi la tappa prevede mille metri di trasferimento in salita di cui una buona parte di portage quindi portando la bici a spalla paesaggi fantastici quando vanno via le nuvole tempo variabile però guardate un po questi giorni abbiamo avuto modo davvero di vedere dei paesaggi mozzafiato come dicono i poeti e avere dei sentieri belli fisici non sotto dieci minuti quindi insomma adesso vediamo cosa ci aspetta oggi ma sono fiducioso oggi saranno millimetri in discesa hanno detto che ci sarà un fettucciato nel prato vedremo un po si volete ok concentrato grande 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 Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni Vieni, vieni 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.